Fabri Fibra con Fenomeno su Radio Bruno, se l'ascoltava vedo anche Francesco De Gregori in cuffia. Ti piace il rap Francesco? Molto, beh, insomma, alcune cose sì, altre no, come in tutti i generi. Questo è uno di quei generi musicali, insomma, dicono per i giovani ed è appunto Fenomeno, il nuovo singolo di Fabri Fibra. Benvenuti e benvenuto naturalmente a Francesco De Gregori. Questa intervista vi è offerta da Campani Group e sei sulla buona strada. Oh, Francesco, benvenuto. Allora, a proposito di giovanissimi, sabato scorso ti abbiamo visto su Canale 5, ospite di Amici, dove hai cantato con due ragazze della scuola e quei posti davanti al mare. Canzone che hai cantato con De Andrè e con Fossati un po' di anni fa. L'hai scelta tu questa canzone? Sì, 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 l'ho scelta io perché, insomma, a Maria faceva piacere che io cantassi con due ragazzi lì e allora ho pensato che era meglio non fare una canzone mia perché, sai, magari loro cantando la canzone di De Gregori insieme a De Gregori erano un po' intimiditi e ho pensato a questa bellissima canzone che è già nata a suo tempo per essere cantata in tre perché erano le parti, una per me, una per Fossati e una per Fabrizio e Andrè, non Fibra. E quindi era perfetta, insomma, e credo che la cosa sia piaciuta a questi ragazzi, hanno cantato benissimo e la canzone è venuta per quella che è, cioè le parole sono arrivate, i segnali che ho avuto, poi dopo, i commenti, gli amici, che ti chiamano. Ah, bellissima, non la conoscevamo perché è una canzone, oggettivamente non è una canzone famosa e però, insomma, ha fatto la sua figura in quel programma che è un programma molto diverso, insomma, diciamo che la musica d'autore lì dentro non è molto rappresentata e però questa cosa è andata bene, non strideva con il resto del programma e io sono stato molto contento. Francesco De Gagori ce ne ha portate 20 di canzoni sue però e questo è il suo nuovo album che è Sotto il Vulcano, è uscito sia in WCD che in triplo vinile è un live perché è stato registrato a Taormina lo scorso anno, ad agosto, durante il tuo Amore e Furto Tour, dicevo 20 nuove canzoni riarrangiate in chiave live, il live è sempre un po' un mezzo, un momento per, come dire, dare nuova vita alle canzoni, fare tornare nuovi dei singoli che lo sono stati tempo fa, può essere anche interpretato così? Anche così, ma fondamentalmente il live è il momento in cui la musica si realizza, le canzoni si realizzano al loro massimo livello perché c'è una band che suona veramente, suonano tutti insieme, non ci sono le sovrapposizioni che normalmente si fa in studio, quel lavoro tecnico che il studio ti consente di avere molto controllo sul suono ma che poi a volte fa perdere spontaneità e quindi il concerto in sé, è il momento in cui la musica è sicuramente più vera, con tutti i suoi difetti, i suoi errori e i suoi inciampi, qualcuno che sbaglia una nota, io che stono, no? Ci sta, il batterista che si dimentica un feel, però insomma, quella è la musica. Oh, le scorse... Continua, continua, non ti volevo interrompere. Quindi insomma, registrare poi un disco di un concerto vuol dire cercare di restituire attraverso un disco qualche cosa che è nata, non per essere un disco, ma per essere qualche cosa che in due ore si esaurisce, no? Questo è un po' il miracolo, la scommessa, la stranezza di un disco live. La scorsa settimana, a proposito di canzoni che ritrovano Nuova Vita, è uscita Rimmel, che è una delle canzoni più conosciute, più significative del tuo repertorio, la canzone che racconta la fine di un amore, la disillusione, il tradimento, la nostalgia. Ti ti dà di raccontarci una delle tue delusioni più grandi? D'amore? Anche in generale. Ma in generale. Ma quello che vuoi, d'amore in generale, di artista, di uomo. Ma io sarà che col tempo uno cancella le cose che lo hanno fatto soffrire, o perlomeno io le cancello. In questo momento una delusione grossa non mi viene in mente, insomma. Anche perché forse non è che uno si deve illudere più di tanto, io non mi sono mai illuso molto sulle cose. Lascio che le cose passino e le guardo passare senza troppe aspettative. Ma cos'è sta musica che mi arriva nei orecchi ogni tanto? Eh, chiediamo di abbassarci un po' la base, esatto, in sottofondo. No, è bellissima, però... Ci disturba un po', insomma. Anzi, io direi di farne sentire un'altra di musica in sottofondo, anzi ce l'ascoltiamo anche con molto piacere, visto che ne abbiamo appena parlato. è Rimmel, nella versione proprio live registrata lo scorso anno a Taormina, è inclusa in questo album di Francesco De Gregori, Sotto il Vulcano. C'è anche questa canzone nell'album Sotto il Vulcano di Francesco De Gregori. Vi ricordo che alle 18.30 di oggi Francesco sarà a presentare questo album al Mondadori Megastore di Bologna, in via d'Azeglio, e quindi vi aspetta lì. Possiamo dire che ci sono anche in qualche modo due ospiti in questo album. Uno si chiama ad esempio Lucio Dalla. E l'altro si chiama Dylan. E l'altro si chiama Dylan. Gli ospiti più belli, più giusti che potessero esserci in questo disco. Sono due persone che mi hanno accompagnato nella mia vita di musicista. Lucio è stato anche mio amico, ovviamente Dylan no. Però sono forse gli unici due che veramente è giusto che siano in un mio disco con questa qualità di scrittura. Questo pezzo che abbiamo appena sentito è un miracolo di bellezza. È veramente una canzone baciata dalla grazia, come era baciato dalla grazia Lucio quando la cantò a Sanremo la prima volta. E noi abbiamo cercato di rifarla proprio uguale a come la faceva Lucio a Sanremo. Senza riuscirci perché lui era più bravo. Però insomma... Lucio, Lucio, Lucio. Voi avete tra l'altro condiviso tantissimi bei momenti insieme, non solo di lavoro ma proprio insomma di amicizia, fra i tantissimi sicuramente momenti, aneddoti che hai vissuto con lui. Ce n'è qualcuno in particolare che ti ricordi, che ti va di raccontarci? Ma lui era un grande inventore, qualcuno dice un grande bugiardo, ma io le chiamo invenzioni, non bugie. Ma non lo so, mi ricordo Banana Republic, una volta ci fecero un'intervista sul Prato, prima del concerto, e lui si inventò davanti a me, eravamo seduti uno accanto all'altro, una storia impressionante. Dice, ieri siamo stati ospiti di Orietta Berti, a casa sua, non era vero? E cominciò a raccontare come era fatta la casa di Orietta Berti, e disse, poi lei è stata molto carina, quando siamo arrivati ha liberato dei maialini nell'aglia davanti a casa, e sulle code c'erano dei nastrini tricolore, cioè una fantasia impressionante, io non sapevo più cosa guardare. Tra l'altro, lui, scusami se ti interrompo, lui è stato quello che ti ha dato il soprannome, l'unico soprannome che tu hai sempre amato, che è il Principe, è vero? È di Lucio Dalla questo soprannome? Sì, ma lo amo solo perché me l'ha dato Lucio, in realtà non mi piace essere chiamato il Principe, non c'entra niente, io non sono, non sono io proprio, non mi sta bene addosso, però col fatto che l'ha detto Dalla una volta, tanti anni fa, insomma, me lo tengo volentieri. Oh, era l'estate del 79, quando tu e Lucio eravate in giro per gli stadi italiani, per il tour di Banana Republic, e narra la leggenda che l'etichetta discografica voleva assolutamente avere l'album, in tempi brevissimi, gli operai degli stabilimenti di stampa di Via Tiburtina quell'anno saltarono le ferie, è vero? Eh, non lo so, potrebbe essere. No, questo non lo so, perché io stavo in tour, quindi non le sapevo queste cose, però potrebbe essere. Beh, avranno fatto gli straordinari, insomma. È una discreta responsabilità, sai che per gli italiani le ferie in agosto sono sacre, quindi, insomma, se avete fatto saltare le ferie in agosto... Probabilmente. Dei turni, delle turnazioni, per cui il disco uscì proprio alla fine dell'estate, è probabile che ci sia stato uno sforzo anche produttivo da parte dell'industria. E ricordiamo che fu anche un grande successo il tour e naturalmente anche il disco, tra le altre cose, avevate portato la musica, insomma, negli stadi quell'anno, che fu una cosa abbastanza importante. Sì, sì, siamo stati i primi a portare la musica negli stadi in Italia. De Gregori, quando a tempo libero, ma mi sono creato, non lo so, che cosa ama fare? Che domanda, non lo so. Tutto, niente, quello che capita. Non so, leggi, guardi film. Sì, leggo, ma insomma, come tutti, leggo, vado in treno, prendo la macchina. Insomma, è difficile, non ho un hobby o qualche cosa. In realtà il mio tempo libero ultimamente è tantissimo, faccio tutto dentro il tempo libero. Tra l'altro tu hai anche un'azienda agricola in provincia di Perugia, gestita da tua moglie Alessandra. Fate l'olio le palombe, è un po' il tuo angolo di relax. Non lo faccio più da anni l'olio le palombe. Voi volete essere informati su tutto, ma in realtà... Ah, capito, non c'è più scoop. Questo non lo sapevamo allora. Ma voi parlate di musica anche ogni tanto? Sì, sì, siccome no. Insomma, questa cosa così ci interessava perché era una cosa curiosa. Poi se vuoi, parliamo anche della prossima canzone che sta per arrivare, che tra le altre cose tu hai fatto in due versioni, nel senso che ce n'è... nella canzone che stiamo per ascoltare, che è Fiorellino, c'è, diciamo, la versione anche Buonanotte Fiorellino, che è quella originale, ma esiste anche questa che tu avevi già messo anche nel tuo album Viva Voce, se non ricordo male, e qui c'è in qualche modo anche, parlavamo prima di Bob Dylan, c'è anche riferimento, insomma, a Bob Dylan. Beh, sì, perché l'arrangiamento è proprio prelevato, in maniera dichiarata, perché... da un pezzo di Dylan, di tanti anni fa, sì. Era una canzone di Dylan, non so, avevo letto da qualche parte che è una canzone di un album del 66, che fu addirittura in qualche modo censurata da alcune radio, forse anche dalla BBC ho letto bene, non so, dalla BBC ad alcune radio americane, perché si diceva, insomma, che tirasse in ballo, insomma, che parlasse di droghi, eccetera, eccetera. Sì, perché dice, ognuno si deve stonare nella versione originale, ognuno si deve stonare, vuol dire tante cose, anche quella cosa lì, e quindi alcune radio non la passarono. Cosa che poi alla fine, insomma, fu in qualche modo smentita, nel senso che non era quello, insomma, l'argomento della canzone. No, però poi tutti si stonarono nella vita da quell'anno in poi. Vero, anche perché stiamo parlando, insomma, del metà anni 60, da metà anni 60 in avanti. La sentiamo, allora, in questa versione, Fiorellino, dimmi se lo annuncio bene, Francesco, Fiorellino 1, 2, 3, 5, oppure... Abbastanza. No, perché ci sono anche dei simboli che non so se vanno detti in qualche modo o no. No, Fiorellino 1, 2, 3, 5, Francesco da Gregori. Beh, insomma, parlavamo di canzoni che col tempo cambiano e si evolvono, direi che questa è cambiata davvero tanto. Fiorellino 1, 2, 3, 5, Francesco da Gregori dall'album Sotto il Vulcano. Ricordiamo ancora una volta che alle 18.30 Francesco è al Mondadori Megastore di Bologna in via D'Azeglio e noi abbiamo praticamente già finito perché sono già quasi le 17. Quindi potremmo, non so, chiedere ad esempio che cosa hai in mente adesso, nel senso che ultimamente ti abbiamo visto tante volte e ci farebbe piacere continuare a vederti. Dipende. Sicuramente, ma è certo che ci vedremo ancora. magari l'anno prossimo, quest'anno è un anno di vacanze e di meditazione. Cerco di scrivere delle canzoni per un nuovo disco, spero di far uscire un disco nel 2018 e quindi, insomma, quest'anno non minaccio nessuna nuova incursione, però promettetemi che la prossima volta che vado in giro mi prendete ancora con voi. Ma certo che sì, ma sei sempre benvenuto. Sarà un piacere, ricordiamo insomma anche per quello che riguarda diciamo un po' la parte sociale per rimanere informati che ci sono naturalmente tutti i canali social di Francesco, Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, e anche il sito che è www.francescodegregori.net Grazie a Francesco De Gregoni per essere stato con noi oggi. Appuntamento oggi 18.30 Mondadori Megastore a Bologna, non perdetelo. Ciao Francesco. Ciao. Ciao, grazie. Questa intervista è stata offerta da Campani Group e sei sulla buona strada. Radio Bruno